Addio luce bianca, stile obitorio, tanto criticata a Modica e pronti al nuovo sistema di illuminazione molto più suggestivo e tradizionale, così come il buonsenso impone. Firmato ieri infatti l'accordo che sblocca l'Empass creatosi circa l'illuminazione pubblica nel centro storico di Modica, l'accordo si è raggiunto a seguito di sopralluoghi e prove di luminosità che nelle ultime settimane si sono effettuate in tutto il centro storico Modicano. Stabilita quindi una pianificazione sull'utilizzo delle luci a LED nei centri storici in tutta Italia, visto che non esiste una normativa che stabilisce ufficialmente la tonalità da utilizzare. L'accordo consiste nell'installare all'interno della città della Contea tre tipologie di lampade. Nelle zone nuove e nelle campagne luce fredda di 4000 gradi Kelvin per garantire la massima visibilità sulla sede stradale. Luce calda a 3000 gradi Kelvin in parte del centro storico dove insistono edifici di recente costruzione lampade da 2200 gradi Kelvin nei quartieri storici non intaccati dalle nuove costruzioni che racchiudono i monumenti patrimonio UNESCO e costituiscono il panorama principale della città. L'accordo firmato dal sovrintendente a battaglia dalla ditta City Green Line dal Comune di Modica chiude definitivamente la controversia iniziata qualche mese fa con il precedente sovrintendente e una volta per tutte pianifica le direttive che dovranno rappresentare per il futuro la legge da seguire per l'installazione dell'illuminazione nei centri storici. Ieri un accordo storico fra sicuramente il Comune di Modica e la sovrintendenza per quanto riguarda la pianificazione e la regolamentazione di quelle che sono il calore delle luci, nel centro storico e in una città importante come Modica che diventerà anche di esempio per tanti altri comuni visto che non c'è una normativa che regola quello che è il colore e quello che è i gradi Kelvin e l'illuminazione che devono essere inserite all'interno dei centri storici. Abbiamo trovato un accordo finalmente che va nella direzione del risparmio energetico e quindi di quello che sono le direttive emanate da parte del Governo nazionale e dell'accordo internazionale e dall'altro di rispettare quelle che sono anche le specificità di ogni singolo quartiere. Quindi si è deciso di continuare ad installare per quelli che ancora si devono installare nelle zone nuove della città, nelle campagne, illuminazione LED con 4 fredde a 4.000 gradi Kelvin. Invece per quanto riguarda il centro storico, nella parte dove il centro storico è stato compromesso tra virgolette da nuove costruzioni, 3.000 gradi Kelvin. Invece per quanto riguarda la parte che integra specialmente dove ci sono insediati i siti UNESCO di San Giorgio e San Pietro e quindi tutta quella parte che viene ad essere guardata sia dal Belvedere sia dall'altra parte del Pizzo, 2.200 gradi Kelvin che sono l'ultima generazione che sono in commercio da qualche settimana e che si avvicinano tantissimo a quello che è il colore attuale dell'illuminazione.